Il comune di Sant'Orso nel Vicentino è invece tra i 12 finalisti l'unico italiano del premio europeo per l'energia sostenibile, premio promosso dalla Commissione europea. Il progetto è stato selezionato tra centinaia di candidature da tutto il continente e si focalizza sul valore della partecipazione dei cittadini per promuovere la sostenibilità e dare impulso agli investimenti in energia pulita. Un video di 40 secondi realizzato dalla Commissione europea lo racconta, lo state vedendo, mentre maggiori informazioni sul progetto sono disponibili al seguente indirizzo www.santorsosostenibile.it. A competere con Sant'Orso altri due progetti, uno di Dublino, l'altro di Parigi. Un premio verrà assegnato anche dai cittadini europei attraverso un voto online. Le votazioni si chiuderanno il prossimo 14 giugno. Se volete votare l'indirizzo è www.euse.eu. La premiazione si svolgerà a Bruxelles dal 20 al 22 giugno. Prossimi.